Domani riapriranno le scuole. Nella nostra regione a Chieti l'amministrazione comunale è già al lavoro da diversi giorni per non farsi trovare in preparata. Sindaco, questa giornata che è comunque una giornata importante, voi avete competenza sulle scuole primarie, sui nidi, le elementari, qual è la situazione? La situazione generale per quanto riguarda la pandemia a Chieti è buona. Da cinque settimane abbiamo dati dei contagi in continua discesa o comunque in un ambito numerico costante. Nell'ultima settimana, la settimana santa, abbiamo avuto nei sette giorni un totale di 62 contagi con una prevalenza di 123 casi su 100.000 abitanti e di conseguenza ben al di sotto della soglia di allarme che è di 250 casi su 100.000 abitanti. Quindi diciamo che è una situazione assolutamente tranquilla e in obbedienza al decreto ministeriale di riaprire le scuole nelle zone arancioni io ho seguito la prassi istituzionale e di conseguenza tutte le scuole di pertinenza comunale saranno aperte nella speranza che tutte le norme di prudenza vengano, come è stato fatto anche in precedenza, ottemperate a livello scolastico e nella speranza appunto che non ci sia un'elevazione dei contagi. Comunque era anche giusto ed è giusto che i ragazzi, i bambini e i ragazzi delle medie tornino ad una vita sociale importantissima per la loro età. Penso che si sia arrivato all'80% della popolazione intera scolastica e questo è già un dato importante e confortante. Ripeto, se le norme di prudenza e di sicurezza vengono mantenute, vengono perseguite con zelo, non penso che ci debbano essere ulteriori pericoli per i nostri ragazzi e per i nostri bambini.